Eeeh what day a tutti ci sono e benvenuti da giocherini in questa nuovissima incredibile serie su The Walking Dead Final Season Io ci tengo a ringraziare dal più profondo del cuore The Wolf Denton per la donazione che mi ha fatto Che era ovviamente indirizzata all'acquisto di questo gioco nello specifico Per cui ragazzi mi ha aiutata ovviamente nell'acquisto di questo gioco a cui io personalmente tengo tantissimo ragazzi Perché mi conoscete e ben sapete che ho adorato la serie di giochi che la Telltale ha fatto appunto su The Walking Dead Ho giocato già tutte le altre stagioni e ci tenevo sinceramente a portarla anche come serie sul canale Perché spesso mi avete chiesto giocherina perché non porti The Walking Dead sul canale Avendo già giocato gli altri giochi ragazzi sarebbe stato inutile perché ovviamente le mie reazioni non sarebbero state le stesse Di giocare un gioco la prima volta per cui ci tenevo a portarlo sul canale a giocarlo insieme a voi Per cui The Wolf Denton ha reso tutto questo possibile Io lo ringrazio veramente dal più profondo del cuore già l'ho ringraziato su Instagram Ci tengo a farlo anche in video per cui grazie veramente nell'anima ti voglio un mondo di bene Che dire ovviamente è uscito soltanto il primo episodio che si chiama Basta Fuggire Gli altri episodi ragazzi sono 4 quindi non 5, 4 Gli altri 3 episodi ovviamente usciranno prossimamente Per cui vedremo protagonista Clementine ragazzi per l'ultima volta Avviamo l'episodio 1 e iniziamo insieme questa nuova ed ultima avventura su The Walking Dead Oh mio Dio Ce lo ricordiamo Madonna che ricordi ragazzi Ah minchia sì perché all'inizio ragazzi quando ho installato il gioco l'ho avviato Mi chiedeva di caricare il salvataggio Gli ho detto di no perché ovviamente ragazzi i giochi li ho giocati su PS3 all'epoca Quindi non avevo i salvataggi Non mi ricordo chi dei due ho salvato sinceramente parlando Forse ho salvato la tipa ragazzi Ho salvato Carly Eh già Ah Sì ma Che non mi ricordo ragazzi ovviamente tutto eh Non mi ricordo tutto quindi sì dovevamo decidere se tenerla comunque con noi o abbandonarla E se non mi ricordo male avevo preso la decisione drastica di abbandonarla ragazzi Eh oh Nascendomi probabilmente le avrò detto non fermarti mai Per me ragazzi Finale della prima stagione di Walking Dead è stato traumatico Mi ricordo che appunto avevo scelto di ucciderlo E che una volta finito il gioco ragazzi a parte sono stata tipo mezz'ora a piangere in camera da sola E poi sono andata la mia mamma insomma le ho raccontato cosa fosse successo nel gioco Perché lei si interessava sempre alle cose che giocavo E raccontandoglielo ragazzi sono scoppiata di nuovo a piangere Cioè pensate a che livello di coinvolgimento ha potuto portarmi questo gioco Per questo ci tengo così tanto Per cui sì mi ricordo Che avevo scelto di ucciderlo per Cioè non volevo che si trasformasse ecco Lui aveva espresso il desiderio di essere ucciso comunque Lei no Già Che responsabilità ragazzi è Ah minchia Oddio sapete che non mi ricordo Però io ero molto affezionata al personaggio di Kenny ragazzi Quindi probabilmente se non sbaglio O forse l'ho giocato due volte e ho fatto entrambe le scelte Non mi ricordo Credo che Ho fatto morire lei ragazzi Perlomeno la prima volta Probabilmente l'ho giocato due volte per vedere come andava in entrambi i casi Però credo di aver fatto uccidere lei Perché ero così affezionata che mi sa che ci ho viaggiato insieme ragazzi eh Nonostante tutto Perché nel primo punto si credeva che Kenny morisse Quindi quando nella seconda stagione ragazzi rispunta Ricordo ancora il momento come fosse adesso Lo stavo giocando assieme a mia mamma Quando è rispuntato Kenny ragazzi sono scoppiata a piangere per quanto era affezionata al personaggio Quindi probabilmente sono quasi sicura di aver viaggiato con lui Mi sembra che ho combattuto per lui Ovviamente figuratevi Che bella sti introduzione ragazzi Disegnata così È bellissima Sì Oddio sono troppo contenta ragazzi Sì anche perché la telte si è decisa Ok questa serie si è data alle scelte compiute La serie è determinata a tutti i siti di gioco ovviamente come sempre La telte si è decisa a mettere già a lancio ragazzi i sottotitoli in italiano Per fortuna hanno ascoltato le nostre richieste risperate E vediamo come inizia sta serie Niente gli zombie possono mancare figuratevi Eh non sarebbe The Walking Dead se no Nooo Ho imparato a guidare oddio non ci posso credere Usa S per inclinare lo specchietto retrovisore Perfetto Ah ok devo tenere premuto Chiarissimo Che stai facendo Non giocherellare troppo con quell'affare Ah ok se non è carica Ah oddio Ah a me piace Ah bene Stai diventando grande già eh AJ still works Bene almeno so come chiamarti Hai fame Poverino Hai ragione Ovvio Ovvio Cos'è? Usa il mouse per guardarti attorno e selezionare un oggetto Questa del giocattolo io direi Questa cosa è vuota Ah pensavo ci fosse qualcosa da mangiare Diamo lì giocato Lo so dai era un gioco Ah scusa Che carina sta cosa Diamo gli la rivista anche Sì ci sarà roba da mangiare sopra Che palle Roba da mangiare Che palle Ma non c'è niente Ah ecco Dai la merendina Perfetto Bene E che mi chiedo ragazzi Ovviamente i grandi Si sacrificano per i più piccoli Dicevo le cose da mangiare ragazzi Non scadono dopo un po' di tempo Cioè Il mondo sarà In apocalisse zombie Da Zombie da anni ormai Cioè non è che La gente produce più cibo Eccetera Quindi Non so come Fanno a sopravvivere Senza avvelenarsi Magari con la roba scaduta Una bella domanda Vediamo un po' Che cosa c'è qui Bene La strada è chiusa direi Ma almeno non sono a piedi O forse Da adesso in avanti Saranno costretti Ah c'è una casa Ci fidiamo Ci fidiamo Eh direi di sì Sembra che l'ho letto nel pensiero Eh sembra Hai detto bene Mai fidarsi delle apparenze Tieni amore Tieni Ecco qua Ho già sentito il primo rantolo Sei un amico Suona la campana Che diceva Cosa abbiamo qui Cos'è quello a fare No guarda il giocattolo Allora Questo cos'è Raccogli la borraccia Magari c'è qualcosa da bere Possiedi borraccia Non acqua fresca da giorno Interessante Prendiamo il piede di porco Ovviamente Ecco fatto Utile se qualcosa ti blocca Il passaggio Guardiamo il giocattolo Visto che c'è Un'altra cosa da mangiare Oh dai Non fare con la faccia sconsolata Vabbè Andiamo per l'ustrazione Dai di sicuro qualcosa ci sarà Il piede di porco dov'è? A cui sono lo zaino? Trova del cibo Ok È il nostro obiettivo Ovviamente Allora Was dobbiamente per muoverci Leggiamo l'insegna F per interagire Ah bene A posto E Quando vedi Valuta le conseguenze Prima di compiere Un'azione Che quando Una cosa C'è C'è il cerchietto rosso Intorno Che facciamo ragazzi Li mettiamo allerta Sul fatto che stiamo andando O entriamo Silenziosamente Ecco Le prime scelte Che proprio Ti fanno pensare Non ne ho la minima idea E se magari Possono tutti morti E con la campana Mettiamo allerta Agli zombie Non so che fare Ragazzi Boh vabbè dai Suoniamola Al diavolo Vediamo che succede Ecco qua Lo sapevo Vedi L'avevo detto Se è solo uno Magari non è un problema Stai tranquillo Ci pensa mamma Clem Oh Clem Possiamo usare anche Clem come nome Usa il mouse Per guardarti Intorno Ok E Andiamo Cavolo Su sti rumori Oh Oddio Ma sta già salì l'ansia Ecco Ho fatto male Veramente Oddio Cerchiamo di fare attenzione Perché non so che tassi Dovrò premere Stai indietro Ci pensa mamma E per stordire O per uccidere Direi di stordirlo Ah Porca vacca miseria Pensavo Mi colpisse il ginocchio Come fa sempre Ok Problema risolta Oddio Mi trovo un po' spesa Con i tasti Della tassi Della tassiera Così Bene Perfetto Siamo a posto Vediamo se riusciamo A entrare Dentro la casa Madonna Già Iniziamo bene Possiamo Shift Per correre Ok ragazzi La prossima volta Vedo se Posso usare Come si dice Il controller Ok vediamo qua Guarda il giardino Beh Quindi magari È segno Che non c'è Cioè che c'è Nessuno qua Però Questi rumori Continui Non capisco Effettivamente A cosa Siamo dovuti Esaminiamo il barile C'è qualcosa qua Cos'è sta roba È acqua No Ok Lasciamo perdere Che magari Non è potabile Vabbè Dubito che ci sia Qualcosa di Potabile Ormai Eh però Oddio Bevi l'acqua No 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 Però Vedete ragazzi Che roba C'è l'acqua Comunque ci serve Quindi non lo so Sarà potabile Non sarà potabile Boh Ci proviamo Non stiamo a ci vedere Una salmonella Poi Vabbè Direi che possiamo Provare Mamma mia Fa schifo Ah Eh scusa Glam Ci volevo provare Comunque L'importante è che Tu l'abbia sputata Vabbè fa schifo Come avevo immaginato Il colorito dell'acqua Il colore dell'acqua Anzi Semmai non era proprio Molto affidabile Toc toc C'è nessuno Ah micchia è chiusa E ciao Eh ma io C'ho il piede di porco Ah micchia Bisogna fare attenzione Eh Shift E qui con tempo Araniamo Speriamo Non ci sia nessuno Che mi spari in testa Stai indietro Tu Ehi Ok Dai dai Cercare un'uscita Ok Perfetto E Jay ascolta sempre Perfetto Ehi la Perché era chiusa la porta Ragazzi Sembrerebbe di no Sembrano essere ben fissi Sulle sedie No 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 Attenzione Le tue scelte impliscono sulla tua evoluzione personale Ok Facciamo attenzione a quello che diciamo A quello che facciamo Il doppio della responsabilità Non possiamo aprirla Mi spiace amore Va bene Entra nella biglietteria Ah Sarebbe dire qua Lui non passa Eh infatti Sì ma Sì ma Ti fidi Di Di mandarlo lì Ok Non so se Se mi fido di lasciarlo là dentro Ragazzi Sinceramente Cioè di lasciarlo Di farlo andare là dentro Qua cosa abbiamo Esaminiamo un po' Sti barattoli Sarà una roba buona Ah Ah Vabbè Un barattolo di pagioli Almeno l'abbiamo trovato È sempre qualcosa Guardiamo un po' Il tavolo Ok Sembrerebbe Non Eserci Altro Qua cosa c'è Usa la fontanella Sarà commestibile Stacqua Sì figurati Sì esce infatti Vuoi dire Sì Amore Figurati Va bene C'è qualcos'altro Qua io direi di esplorare Sempre bene Ragazzi Comunque No Sembrerebbe non esserci altro Qui ci sono dei barattoli Sembrerebbe Però Non possiamo interagire Direi di lasciare Gli zombie Lì dove stanno E di guardare Sta porta Dubito ragazzi Che possiamo fare altro Vabbè Mi sa che l'ultica cosa Ci rimane da fare È mandare lì Dentro AJ Amore Mi sa che Lo so Amore Lo so Hai fame Non possiamo mandarlo là O lui ha detto Vediamo se c'è un altro modo Per entrare Ma A meno che non c'è una finestra No I miei dubbi Sinceramente Ah ok Quindi no Non possiamo uscire E come Caspita Non è che questi Ci avranno una chiave addosso No Vediamo un po' Cosa c'è qui La chiave Oddio Vabbè Dai rischiamo Vabbè Giustamente Come faccio Dai Ah Quello c'è qua Leggi il messaggio Ah bene Gran bella scelta Eh Ireni Sì Questa cos'è Il veleno Ah Minchia Si sono avvelenati Dio santo Che roba Si Chi lo sa Speriamo Il fatto è che La chiave ragazzi Così è inaccessibile Eh Non lo so Lo so Amore Ha paura Mi pare ovvio Eh Perché lui ha paura Ovviamente Di entrare lì dentro Io non sono sicura Che lì dentro Sia sicuro La nostra priorità Ragazzi È la sicurezza Di OJ Come la priorità Di lì Era la sicurezza Di Clementine Per cui Non me ne vogliate Ma credo proprio Che Che ucciderò La coppia Mi dispiace Nell'anima Eh Però alla fine Cioè Si sono trasformati Quindi loro Di regola Sono morti Mi dispiace Attenta Oh Non farti mordere Per carità Mi dispiace C'è Non vuole lasciare Questo mondo Buon lavoro Eh Abbiamo la chiave Eh Lo so Clem Mi dispiace anche a me Però vediamo Cosa c'è dentro Se c'è qualche Mostro Non ci vuole Oddio C'è una culla C'è un lettino Cioè There was a good Thing going there Can we stay here Oddio Oddio No Oh my god Oh no No one's here No one's ever anywhere It's always just monsters ci sono io ah fogliettili guarda un po' hey Jay è un ottimo mira perfetto mira sempre alla testa bravo bravo bambino ok vediamo un pochettino di sicuro qualcosa da mangiare ci sarà guarda il materasso ok quindi non è così male effettivamente qua cosa c'è? guarda la culla l'avrà portato via ok forse hanno perso il loro figlio esamina il barattolo vediamo un po' cos'è sta roba bello sorry buddy these are long gone madonna fuck niente parolacce ah ok già va a meno che cosa? lo spostiamo eh ah c'è una botola ci sarà una specie di botola oddio che ci sarà là sotto una cosa mi spaventa un poco eh sinceramente bene bene ok un po' spero non ci sia nessuna brutta oh è un tesoro fantastico what the fuck via chiudi chiudi ma che cavolo oddio hanno fatto esplodere tutto che pezzi di merda ragazzi ecco quello che ci mancava fantastico si oh oh si preannuncia quanto problematico forza ok ragazzi mi ha appena salvato la partita che dire ovviamente non entriamo ancora nel vivo del gioco però sono troppo impaziente di continuarlo questo video è darmina qui grazie a tutti un bacione gli obdosha a tutti ragazzi ciao vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni ciao